Katsu! 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 Eh no! È pericoloso! Katsu! Katsu! Oh! Lascialo! Lascialo! Katsu! 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 Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ok! 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 Ci sei? Ok! Devo liberarti! Come faccio? Ti devo liberare! Eh! Come ti tolgo tutto? Ok! Dai! 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 Togli! 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 Ok! Katsu! Ok! Devi andare a prendere delle forbici! Ci servono delle forbici! Come delle forbici? No! No! Ce la facciamo! Dai! È un pezzo di scotch! Abbiamo la sua arma! Abbiamo la sua arma! Oh mio Dio! È perfetto! Vedrai che vinceremo! Vai Katsu! Togli tutto! Perfetto! Quanto meno gli abbiamo tolto la falce! Katsu! È perfetto! Ok! Dovete capire che è successo! C'è un clown che ci sta perseguitando per tutta la casa! Cap non è a casa! Siamo solamente io e Katsu! Katsu ha bevuto un liquido strano! E adesso si sente male! Questo clown è per casa! Impazzisco! Impazzisco! Ok! Che dobbiamo fare? Ti spiego tutto! Ok! Ti spiego tutto! Vai! Vai! Dopo aver bevuto quel liquido puzzolente! Eh! Non lo so! Non lo so cosa c'era all'interno di quel liquido! Mi è venuto in automatico uscire fuori al giro! Oh mio Dio! Katsu! Stava aspettando il clown che mi ha legato! Ok! Ok! Ascoltami! Ascoltami! Ho un piano! Dobbiamo riuscire a togliere la maschera a quel clown! E so come fare! Katsu! Per prima cosa! So che ti ha legato con uno scotch! Dove si trova questo scotch? Quello che ha usato è il mio scotch! E si trova nel mio armadio! Però io ho paura, Cresi! Ho paura perché lui prima è passato di qua! Andiamo Katsu! Dobbiamo... No! 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 Eh sì! Ok! Dobbiamo prendere lo scotch nell'armadio tuo! Vai! Vai! Lo prendo io questo scotch! Siamo qui! 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 Dobbiamo chiudere la... No! Non ci diamo! No! Non ci... La finestra aperta c'è! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Dove si trova lo scotch? Qui! 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 Eccolo! Ok! No! 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 Scappato! Scappato! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Abbiamo lo scotch! Cresi! Cresi! Io non lo voglio più vedere in faccia! Io non lo voglio più vedere in faccia... Ah! È lì! È lì! Chiudi! 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 Chiudi, tieni! Katsu! No! Non chiedere! Che è successo? Cresi! Oh! Cresi! Cresi! Ci ha chiuso dentro! Ci ha chiuso dentro! Oh Dio santo! Ci ha chiuso dentro! Guarda il lato positivo! Almeno... Cazzo? 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 Che cazzo? Cos'è? Cos'è? Il sangue! Il sangue, Crazy! Cazzo, dobbiamo riflettere, dobbiamo trovare un modo per... per rapirlo, come ha fatto lui con te. Non ha più la sua panice, quindi... quindi lo so io per bene. Cazzo, andiamo in cucina, ho un piano. Sì, ma il problema è che ora questa porta è bloccata, quindi dobbiamo uscire per forza dall'altra parte. Andiamo, andiamo. Molto probabilmente lui in questo momento è ancora in corredenza. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo. Vai, Cazzo? Ok, fortuna. Ok, ok. Ok, oh mio Dio, perfetto. Ok, 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 non lo toccherò. È lì, è lì, è lì. È lì, chiudi, 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 chiudi a Ciave, chiudi a Ciave. Cavolo, 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 cavolo. Cazzo, allora, allora, ti spiego qual è il mio piano. Il mio piano è chiuderlo in una stanza come lui sta facendo con noi e poi uno di noi due deve, diciamo, andare e chiuderlo con lo scotch. Così lo incateniamo Cresi 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 No 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 Cos'è questa? È la stessa C di prima È la stessa C che sta in soggiorno Cazzo Abbiamo dimenticato la falce Dobbiamo andare a riprenderla subito Vieni com'è Vieni Ok Cazzo Oh mio Dio Fra Fra donno dov'è? Dov'è la falce? Non c'è più L'avevo lasciata qua Quando ti stavo spiegando il piano Oh mio Dio Oh mio Dio è qua dentro Cazzo Trovo una soluzione Eh no 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 Credevo che la porta fosse chiusa Invece che l'ha lasciatola aperta Dai calmo Cazzo Ho deciso Apro e gli sparo col 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 Ok cos'è questo? Ah Ok ok Tra Hai finito i tardi Hai finito i tardi Sono l'altro di là Prendiamoli Prendiamoli Ok Ricarico il blaster Ok Cazzo Questa sarà un'arma Che ci servirà per fronteggiarlo Ascoltami Lo rinchiuderemo in camera di cap Sì Lo rinchiuderemo in camera di cap E ho una soluzione Cresì ma tu devi spiegarmi Come possiamo chiudere lui In camera di cap Dopo che mi ha bloccato Sulla sedia E mi ha legato con lo scotch Spiegami Credi seriamente Che sia così facile? Se tu noti Dalle C Sì sì Proprio le C Che vede di sangue sparse Lui è sempre dove siamo noi E se ci fai caso È sempre dove siamo noi Dopo che ci siamo stati Quindi Se adesso andiamo in camera di cap Lui verrà in camera di cap E indovina un po' Ho già un piano per Rinchiuderlo Andiamo Andiamo Senti il rumore strano Piano Cresì Cresì Fermo Fermo Cresì Molto proprio nel tempagno Quello lì è il rumore del mio phone Del mio phone Cazzo Parla piano Non facciamoci a raccorgere Andiamo in camera di cap È come se lui avesse le telecamere Ma che si fa Perché si stava asciugando i capelli È lì È lì È lì Ok Chiudi Chiudi Ok Chiudi E c'è chiudo Cazzo Cazzo Ok Adesso che siamo in camera di cap Lui riverrà in camera di cap E ho un piano Per farlo buttare sul letto E per Chiuderlo nel letto Sì Lo chiuderemo Lo chiuderemo nel letto Cavolo Eh sì ok Il tuo piano quadro è abbastanza Guarda lì Come guarda lì Guarda lì Oh mio Dio No Un'altra no È già stato qui Oh mio Dio Sta anticipando tutte le nostre mosse Ascoltami Cazzo Ho un'idea Ci nasconderemo qua dentro È l'unico modo per fronteggiarlo Senti a me Apriamo questa finestra Mettiamo la telecamera nascosta E lui entrerà qua dentro Al mio segnale La porta perché lui entrerà sicuro Dalla porta E io mi nasconderò qui Metteremo varie telecamere nascoste Quindi avremo varie inquadrature E appena ti dico Wow Tu lo spingerai sul letto E io lo scoccerò In questo modo Lo bloccheremo Scorcialo 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 È bloccato L'ho scocciato Lo scocciato Fermo Lo scocciato Fermo Fermo È fermo È fermo È fermo 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 lì Ti abbiamo preso Orsacchiotto Allora Innanzitutto Vediamo i suoi capelli Chi sei tu? Eh È pelato? Aspetta Crazy Non dirmi Che è quello Che sto pensando In questo momento No 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 Niente spoiler Cazzo 3 2 1 Vediamo Chi è questo qui Che si è finto clown Alle 3 di notte Ad Halloween 3 2 1 Per la seconda volta È vincenzo Cosa? Perché? Certo scherzetto Sono a dieta Scherzetto No 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 C'è fatto spaventare Per tutta la notte Ma ti sembra normale Che lo sei fatto? Siamo da due ore Qui a spaventarci E tu sei il livello Che ti fingevi un clown